Due settimane di proteste, scontri con la polizia, un braccio di ferro che rischiava di degenerare, ma i manifestanti alla fine hanno vinto e le autorità di Rio e San Paolo hanno dovuto fare un frettoloso dietro fronte, cancellare gli aumenti dei trasporti che erano stati decisi per far fronte alle faraoniche spese per i mondiali di calcio del 2014. La rivolta dell'aceto, così era stata battezzata la protesta popolare che chiedeva più scuole e meno mondiale di calcio, questa sera può scendere in piazza e festeggiare. Il sindaco di Rio, Edoardo Paesce e quello di San Paolo, Fernando Haddad, hanno annunciato una riduzione di 20 centesimi del prezzo del biglietto del trasporto pubblico nelle due grandi città brasiliane, dopo che almeno altre 12 città avevano preso un'analoga decisione. La cancellazione degli aumenti rappresenta un grosso sacrificio per le casse dello Stato, hanno fermato i due sindaci dopo che la presidente del Brasile, Gilma Rousseff, aveva lanciato un appello ad ascoltare quella che aveva definito la voce della legittima protesta del popolo. Le voci dei manifestanti devono essere ascoltate, aveva aggiunto Gilma, che durante la dittatura brasiliana degli anni 60-80 fu imprigionata e torturata in carcere. Un appello raccolto soprattutto dal Geraldo Alcmin, governatore dello Stato di San Paolo, del partito di opposizione di destra. Alcmin ha rifiutato fino all'ultimo di abbassare i prezzi del trasporto pubblico ed è stato l'artefice della dura repressione da parte della polizia militare. Un messaggio, quello della presidente, che evidentemente ha colto nel segno e che ha permesso di disinnescare una vera e propria bomba d'orologeria. Insieme ai manifestanti infatti si erano mischiati gruppi di teppisti, gli stessi che la scorsa notte, nonostante l'annuncio dei ribassi dei prezzi, hanno attaccato a Belo Horizonte le forze dell'ordine, creato barricate e saccheggiato la filiale di una banca.